Allora un applauso per la Menis Group 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 stanno insegnando se lo renuncio 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 stanno ballando tango stanno insegnando se lo renuncio si lo renuncio stanno insegnando schl監 kELL stanno ssssssssss too een Una storia in Plexiglia che appassionano Quando tu non è Plexiglia stanno insegnando Scalare non si può Scalare non si può Scalare non si può Scalare non si può Grazie